Coronavirus, c'è una nuova vittima. Si tratta di un uomo di 74 anni ricoverato all'ospedale di Belluno. Intanto nel weekend è scattato il protocollo scuola per altre quattro classi di istituti superiori di Belluno e del Cadore con la relativa presa in carico per i primi tamponi di controllo. Torneranno in classe, nel frattempo, gli studenti della classe dell'Itinegrelli di Feltre, finiti in isolamento a causa di una positività tra i ragazzi. La negatività al secondo giro di tamponi chiude quindi il periodo a casa. Sempre sul fronte scuola prosegue l'attività dei drive-in per i test agli studenti. A Feltre 114 esami a Belluno con lo spostamento del punto per gli accertamenti in via Sagrogna, i tamponi effettuati sono stati invece 84. Il cambio di indirizzo nel capoluogo è stato approntato per alleggerire la viabilità all'ospedale San Martino.